Professionalità e cortesia, tutto questo lo puoi trovare da CRE di Siani Giuseppe, l'officina di utensili più vicina a te. A vetri sul mare sono in corso i controlli disposti dall'amministrazione comunale sul corretto adempimento per il versamento dell'imposta di soggiorno relativo al periodo dell'ultimo semestre da parte delle oltre 400 strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere presenti sul territorio vietrise. Il personale dell'ufficio comunale preposto, con l'ausilio degli agenti della Polizia Municipale, da giorni sta sollecitando i titolari di alberghi, affittacamere, case vacanze, locazioni breve e B&B della necessità di procedere alla regolarizzazione del mese di luglio ed eventuali posizioni pregresse entro il 16 agosto 2024, tramite il bonifico bancario sul conto corrente del comune di Vietri sul mare, bollettino di conto corrente postale ed altre forme di versamento attivate dal comune. I gestori delle strutture ricettive dovranno inoltre adempiere anche alla presentazione della dichiarazione contenente tutte le informazioni relative all'imposta incassata sulla piattaforma telematica StayTour. Trascorso il termine del 16 agosto scatteranno inevitabili le sanzioni amministrative previste dal regolamento comunale, che vanno da 300 a 500 euro per il mancato riversamento all'amministrazione vietrese dell'imposta di soggiorno, oltre che l'omessa incompleta o infedele dichiarazione mensile. Nel 2023 il comune di Vietri sul mare, stando ai dati riportati sul portale Siope, ha incassato dall'imposta di soggiorno 298.283 euro, mentre nel primo semestre del 2024 sono stati incassati poco più di 56.000 euro. Ci sono tanti operatori per bene e alcuni che non rispettano le norme sulla tassa di soggiorno. C'è tempo adeguato per mettersi in regola, poi non avremo più tolleranza. L'illusione dell'imposta di soggiorno rappresenta una nota dolente che abbiamo intenzione di debellare, ha tornato il sindaco di Vietri sul mare Giovanni De Simone e grazie al lavoro dei nostri uffici per i furbi cominceranno davvero tempi duri. L'amministrazione comunale di Vietri sul mare ne oltre ha annunciato che saranno messi in campo anche altri strumenti per individuare e sanzionare gli inadempienti.